Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori tre chilometri di coda tra Ginestra e Lastra in direzione Firenze, rallentamenti sulla carreggiata opposta in direzione Mare, sempre per lavori in direzione Mare e tre chilometri di coda tra Santa Croce e Montopoli e in direzione Firenze, code tra Navacchio e Cascina. Per traffico intenso in direzione Roma sulla variante di Valico, code tra Firenzola e Aglio. Sulla A1 sempre in direzione Roma, code tra Aglio e Calenzano, tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna per lavori due chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze Imprunita. Per traffico intenso, code tra Firenze Nord e Barberino. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!